Mi trovo davanti alla scuola media Colombo a Taranto in via medaglie d'oro per raccogliere le segnalazioni dei genitori, degli studenti che frequentano questa scuola. Una situazione davvero vergognosa, incredibile, alcune finestre sono addirittura fissate con i bulloni proprio perché sarebbe pericoloso aprirle e quindi potrebbero cadere, potrebbero crollare. La situazione è stata già qualche anno fa sottoposta all'attenzione dell'amministrazione comunale, sopra il luogo le solite dichiarazioni così per sedare, per calmare studenti e genitori e poi nulla. Siamo arrivati al punto che quelle finestre, lo ripeto, sono state bullonate e i ragazzi crepano, crepano di caldo. Guardate queste immagini, addirittura alcuni genitori hanno anche escogitato il sistema di mettere una piccola catenella. E mentre i ragazzi crepano di caldo, guardate cosa fa l'assessore alla pubblica istruzione Fabiano Marti, va in altre scuole e felice e contento, balla. Balla evidentemente anche con la compiacenza, tra virgolette, politica di alcuni docenti e di alcuni dirigenti scolastici e vuole dare l'immagine di un amministratore, di un assessore vicino agli studenti. Un'amministrazione che fa di tutto per favorire il benessere degli studenti. Ma quale benessere? Fabiano Marti, tu che peraltro hai familiari da queste parti, frequenti queste zone quasi di fronte alla scuola Colombo. Come ti giustifichi? Come giustifichi l'assoluto nulla di questa amministrazione? E tu hai il coraggio di ballare, di andarti a divertire nelle scuole? Vuoi fare il simpaticone? Vuoi fare lo showman? Vuoi fare l'uomo di spettacolo? Quando i ragazzi stanno crepando di caldo perché abbiamo un'amministrazione comunale incapace, che non ha rispetto degli studenti, perché non è possibile dalle fonti, dalle voci abbastanza fondate, dalle risposte informali che abbiamo ricevuto, che non ci sarebbero fondi al momento per riparare le finestre. È mai possibile? E poi si spendono 7 milioni di Euro per il 6GP. Poi dite che ripeto sempre una cosa, ma scusate, non siete capaci di riparare quattro finestre, di cambiarle eventualmente e andate a scialacquare danaro pubblico per 7 milioni e mezzo di Euro? Balla, balla Marti, balla, balla, balla ballerino, guarda, mentre tu balli i ragazzi della Colombo crepano di caldo e non solo, gli stessi problemi si sono verificati in altre strutture scolastiche. Penso per esempio alla Frascolla di Lama, scuola nella quale alcuni docenti nei giorni scorsi, vedendo i ragazzini, i bambini crepare di caldo, li hanno portati fuori in giardino. Stessa cosa, dicasi, per quanto riguarda la Salvemini di Tramontone. Quindi anche qui mancanza di aria condizionata. Il caldo che ora, grazie a Dio, si sta stemperando finendo settembre, ma non è possibile, comunque anche per una questione proprio necessaria di determinare un cambio d'aria per cercare di areare le aule. Non è possibile che le aule debbano rimanere bloccate, bullonate, come nel caso della Colombo, o in altri casi, come vi ho detto, la Frascolla, la Salvemini, non ci sono gli impianti condizionatori per dare un minimo di refrigerio agli studenti. E qui, vedete, questo accade alla Colombo, ma Marti, sempre in quell'ottica di apparenza, di far vedere che tutto è bello, balla, balla e balla. Tanto Marti, a te che te ne frega che i bambini crepino di caldo, caro Fabiano Marti. Questa è l'amministrazione comunale. Studenti e soprattutto genitori, organizzatevi e organizziamoci. Vi do io una mano come consigliere comunale per una protesta civile, civile sotto palazzo di città. Non è possibile mancare di rispetto agli studenti e creare anche condizioni di invivibilità, possibili danni alla salute nei confronti dei più piccoli. Bambini che a momenti svenivano e tu balli Marti, e tu Marti ti metti a ballare, ma con quale coraggio, con quale testa fresca, cerca di essere più responsabile nei confronti delle problematiche della città. E basta con questi teatrini, caro Marti. Non siamo a teatro, stiamo parlando di scuole, di problematiche, stiamo parlando di amministrazione, non si scherza con certe cose.